Ho appena firmato l'ordinanza che tiene conto innanzitutto delle disposizioni della cabina di monitoraggio nazionale e del verbale del nostro CTS regionale, un'ordinanza i cui principali punti riguarderanno la scuola che vedrà applicata la didattica a distanza dalle elementari fino alle superiori per tutto il territorio regionale e quindi diciamo che si riapriranno il nido e la scuola materna 06. Per quanto attiene ad alcuni distretti della nostra regione che presentano di contro un aumento del contagio anche avuto riguardo proprio alla normativa nazionale, al DPCM nazionale, saranno invece disposte le chiusure di tutte le scuole di ogni ordine grado. Sto parlando e mi riferisco ai distretti dell'Alto Tevere, della Sisano, del Folignate, dell'Orvietano, della Valnerina e del Ternano. Queste misure si sono rese necessarie proprio in base alla rilevazione dei dati epidemiologici che la nostra sanità ci ha fornito. Di contro abbiamo allentato delle misure che riguardano il commercio, in particolare già da sabato il commercio di vicinato potrà rimanere aperto anche per il pomeriggio a differenza di quello che era stato disposto la settimana scorsa, quindi con aperture soltanto al mattino. Questo anche grazie ai dati rilevati di tutta l'area del Perugino che sta registrando un calo anche dei contagi e questo è sicuramente molto molto importante. Sono misure tutte necessarie, purtroppo si richiedono ancora dei sacrifici, io ne sono assolutamente consapevole e sono anche addolorata del fatto che dobbiamo continuare a mantenere le nostre scuole chiuse, ma il problema è che questo virus e in particolare queste varianti ci impongono di adottare queste tutele e questa cautela. Chiedo ancora un sacrificio a tutti gli Umbri, ma chiedo principalmente un grandissimo senso di responsabilità. Forse io me lo auguro e lo auguro a tutti, queste sono le ultime misure restrittive che dovremmo affrontare per avere e naturalmente cercare di avere una primavera, un'estate invece con un ritorno alla normalità. se lo facciamo tutti insieme e adottiamo veramente le misure di sicurezza che comunque ci sono e possono e debbono essere adottate io credo che questi tempi di restrizioni saranno sicuramente più brevi di quello che possiamo immaginare. Quindi io confido proprio nella responsabilità di tutti e nella speranza veramente che questo sia l'ultimo provvedimento restrittivo che sono tenuta ad adottare.